nel mondo dell'informatica delle telecomunicazioni oggigiorno siamo pervasi dalla parola iot internet of things in italiano internet delle cose ma realmente cosa significa che cos'è significa che internet entra nelle nel mondo degli oggetti delle cose e dei luoghi i quali acquisiscono un'identità digitale e messi in una rete comunicano tra di loro e fruiscono dei servizi questo si può trovare in diversi ambienti come per esempio la casa l'ufficio ma anche le aziende gli ambienti di produzione di materiali ed è proprio dove l'IT e l'OT si incontrano per quanto riguarda l'IT e l'OT Cisco è il brand numero uno nel networking con delle soluzioni dedicate soprattutto al mondo industriale e da qualche anno a questa parte sta anche partecipando alla digital transformation con delle soluzioni dedicate per il mondo dell'IoT le soluzioni IoT di Cisco IoT possono essere a livello di campo come i sensori industriali che possono essere di umidità di pressione di temperatura altre soluzioni possono essere di edge computing perché questi segnali acquisiti devono essere trasformati in un certo modo e creati a livello di dati e poi trasformati e passati verso il cloud per le soluzioni end to end naturalmente di grande importanza tutta la parte di connettività di networking e anche di cyber security nei prossimi episodi vedremo poi in dettaglio quali sono i prodotti dedicati per queste soluzioni Grazie per la visione! Grazie per la visione!